La facilità mostrata sul palco in veste di ballerino, cantante e attore in ruoli che spaziano dal respiro comico a quello più drammatico per aver saputo rivolgersi a target differenziati sia per interessi di genere che di età per la sua esperienza in Italia e all'estero al fianco di artisti conclamati e per l'impegno nella divulgazione e l'insegnamento dell'arte del canto in diverse scuole dello stivale il premio Pisani per il miglior artista del comprensorio savonese che si è fatto valere negli ambiti del cinema, del teatro, della televisione e dello spettacolo va quest'anno a... fammi il rullo... Mattia Iberni!